Pubblicato su bollettino ufficiale della Regione Puglia, il primo bando del programma, che con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, finanzierà progetti con budget sino a 200 mila euro, attuati esclusivamente con costi semplificati e focalizzati sulla capitalizzazione di risultati e di esperienze di successo. La capitalizzazione è un processo messo in atto per garantire che i risultati di valore precedentemente raggiunti siano utilizzati o trasferiti ad altre organizzazioni, aree geografiche, settori o contesti. Il bando ha aperto sino al prossimo 29 marzo rivolto a enti pubblici, enti di pubblico diritto e privati senza scopo di lucro. Le proposte progettuali dovranno focalizzarsi su 5 priorità tematiche, piccole e medie imprese, ambiente, trasporto, inclusione e governance per ogni obiettivo specifico. I candidati potranno pianificare azioni di capitalizzazione, ad esempio masterclass tematiche, peer revision, attività dimostrativi, studi di fattibilità. Il programma transfrontaliero con una dotazione finanziaria di 81 milioni di euro, di cui la Puglia, autorità di gestione, ha dichiarato l'assessore allo sviluppo economico delle noci, rinnova la cooperazione tra Puglia, Molise, Albania e Montenegro e finanzia progetti tra enti pubblici e no profit italiani, albanesi e montenegrini. Sono tante le sfide comuni tra i paesi coinvolti, sfide che partono con questo primo bando per i piccoli progetti focalizzati su settori strategici.